Troppe bozze, troppa burocrazia, anche troppe chiacchiere, gli studenti universitari della Facoltà di Lingue sono ormai arrivate al limite della sopportazione nell'ormai lunga ed estenuante vertenza dell'Università Eblea. Un segnale sempre più negativo che arriva in queste ore, soprattutto in quello che viene etichettato come il balletto delle bozze, e l'ultima, in ordine di tempo, secondo gli stessi studenti, non ricalcherebbe più i termini delle precedenti intese informali e pertanto il direttore generale dell'Ateneo di Catania, Vito Maggio, ha ritenuto di non assumersi la responsabilità di siglare la famosa transazione, preferendo invece di investire in questo ruolo il CDA della stessa Università. In questo modo è così slittato l'appuntamento per la firma della Convenzione, prestabilito come noto inizialmente per il 28 gennaio. Solo se tutto filerà liscio, se cioè il CDA avrà dato il via libera, si firmerà il prossimo 2 febbraio, ma intanto studenti e famiglie sono inquiete perché Catania potrebbe rifiutare la bozza unitaria e quindi facendo spegnere l'ultima speranza di poter continuare ad avere l'Università a Ragusa.